Cosa puoi fare per svegliarti al mattino più energica? Parti dalla tua alimentazione, cambia un pochino il tuo stile alimentare, fai più introduzione di alimenti ricchi di fibre, minerali, verdure, crude e cotte e frutta. Frutta magari predileggi di stagione così come la verdura. Assicurerai al tuo corpo la giusta dose di vitamine. Laddove necessita assumi vitamina D, chiedi consiglio al tuo medico se c'è necessità integrale a vitamina D per favorire sì il tuo sistema osseo ma anche per migliorare il livello energetico. Pratica attività fisica, non devi praticare un'attività fisica esageratamente faticosa, basta che tu faccia attività come una camminata una volta al giorno per circa una quarantina di minuti oppure dedicati a un'attività più rilassante che possa portare un po' in equilibrio sia la mente che il corpo, molto importante per esempio lo yoga. Quindi dedica il tempo anche a te stessa, anche perché in questo momento sicuramente i tuoi figli saranno cresciuti e hai la possibilità di prenderti del tempo. Praticati automassaggio, se riesci magari fatti fare dei massaggi e lavora molto sulla tua respirazione. È molto importante per riportare anche in assetto il tuo corpo e per far sì che al momento in cui tu ti addormenti il tuo corpo riesca ad avere un sonno più ristoratore.